ma fatto così diventa un po noioso cioè perché devo usare lo state manager con l'article service iniettato qui che poi devo fare il dispatch prima del loading per far vedere il loading poi dispatch load feed success nel caso in cui sia andato bene poi il dispatch del fail abbiamo quasi complicato il nostro codice ed è qui che ci viene in aiuto se andiamo a vedere qui quello che vedevamo prima gli effects no quindi dall'action come lo ricordo di nuovo nota tutte le azioni sono prima spacciate all'interno dell'application state e processate da reducer e dopo maneggiate dall'effects ok andiamo a usare gli effects andiamo qui andiamo a vedere l'installazione e dobbiamo prima installarlo quindi ci copiamo l'installation e andiamo installare pass diciamo di sì come vedete ci ha rimodificato di nuovo l'app config che cosa ha modificato nel nostro app config oltre allo store lo state a lo store dev tools senza questo non vedremo le modifiche su redax ci dice provide effects che cos'è l'effects non fa nient'altro che prendere una action eseguire delle operazioni faccio prima farvelo vedere esegue delle operazioni e poi può risettare un altro stato ma ve lo faccio vedere qui facciamo feed punto feature punto vabbè c'è chi mette ad esempio anche diciamo service perché in realtà diventa come se fosse un service ok quindi service punto ts qui qui cosa dobbiamo fare questo che è come se fosse un service quindi la prima cosa che dobbiamo fare è un injectable perché tramite l'indepidus injection ngrx andrà a iniettare questo questo servizio che in realtà non è proprio un servizio ma un effects di ngrx quindi export class feed effects allora qui dobbiamo fare il caricamento dei nostri feed sulla base delle action quindi la prima cosa che ci serve sono le action e qui ci viene in aiuto guardate io creo actions dollaro e già avete capito che se metto il dollaro è un observable ok inge uguale inject di action e ovviamente ha sbagliato la action perché non è quello che ha messo lui l'intellisense ma è piocciola ngrx effects ecco perché ho sbagliato actions pardon ok questo actions questo observable ci viene dato dall'effects di ngrx actions non fa nient'altro che andarsi a prendere quindi quando viene dispacciata una action e ci darà la pipe dell'action che viene dispacciata vediamo un attimino se riesco a farvelo vedere meglio allora il primo diciamo observable che io voglio creare è load feed è uguale create effect effect qui andiamo a dirgli facciamolo così vediamo se esco a farvelo far vedere bene this.action che è un observable questo è un observable delle actions che vengono allacciate all'interno dello store ma noi in questo caso load feed ci serve la action del caricamento la prima action quindi dobbiamo andargli a dire quando ti arrivano le action filtra per la action del feed perché vogliamo che questa action qui sia quella che vada a caricare i feed dal back end per poi scatenare questo dispatch del success questo momento l'abbiamo fatto nel componente però vogliamo creare questo effect cioè sulla base delle azioni che arrivi di che arriva punto pipe quindi prendo l'observable vado a fare la sua trasformazione qui fx ci dà un altro un'altra funzione che è di tipo di tipo feed actions punto load feed quindi mi fa il filtro dopo questo off type soltanto del caricamento e quindi qui cosa posso fare io so che mi è arrivato load feed faccio uno switch map su che cosa e qui mi serve iniettare il servizio di caricamento dei feed quindi private come l'avevamo chiamato article service eccolo qui article article service uguale a inject di article service e andiamo a importarlo quindi facciamo lo switch map il parametro che abbiamo qui è la nostra action e qui gli diciamo return this punto article service punto get articles ma se vi ricordavo intanto mettiamoci null però vedete che ci dà ancora errore perché perché quando andiamo a creare il create effect il risultato del create effect deve essere una action quindi dopo aver fatto lo switch map posso fare un map articles e qui gli dico fai un dispatch di load feed success articles due punti articles articles punto e basta perché non va fatemi vedere un attimo che cosa ho sbagliato off type action ok qui ci passa null map articles feed action load feed success ok non avevo importato il map quindi andava in errore andiamo a riformattare il documento ok perfetto ok quindi arrivano le action filtro per il load feed faccio la load e dopo di che ritorno un'altra action load feed action quindi passerà prima per load feed e poi per load feed success passandogli che cosa non array vuoto ma articles punto articles perché questo qui dava il dto e quindi lo risettiamo qui a dire il vero potremmo fare così pipe map m m punto articles così qui articles ce l'ho già e non devo faccio così così sono a posto è la stessa cosa andiamo a salvare e ovviamente a parte che dobbiamo lanciarlo ovviamente questo feed effects dobbiamo andarlo ad a configurare quindi sempre nel nostro app config dobbiamo andare a dire di usare questo effects questo provide effects come parametri ha i nostri effects quindi qui possiamo mettere feed effects se adesso andiamo a farlo però prima facciamo un'altra cosa a questo punto abbiamo definito il nostro servizio che sulla base del load feed va a chiamare gli articles e rilancia un altro un'altra action per ogni una di queste action fa load feed mette la variabile isloading col success mette gli articoli e risetta l'isloading false chiaro? quindi andiamo a modificare anche il nostro global feed component a questo punto abbiamo questo andiamo a vedere qui abbiamo già fatto su select articles ma non ci serve più non ci serve più sicuramente il servizio qui di caricamento perché lo farà l'effects per noi quindi nel next non dovremo fare il dispatch e anche qui nell'error non dovremo farlo quindi faremo nient'altro che il dispatch della load feed e basta e quindi questo article service non ci servirà più qui avevamo questo console cancelliamo andiamo a vedere se è vero andiamo a vedere il nostro conduit e come vedete viene lanciato il caricamento degli articoli e poi viene fatto il load feed success quindi ogni volta che faccio il dispatch del load feed automaticamente siccome abbiamo detto abbiamo creato questo effects cosa fa? non fa nient'altro l'effects sulla base dell'action che abbiamo lanciato farà il caricamento degli articoli dov'è? 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 non lo trovo più non lo trovo più non lo trovo più eccolo qua quindi abbiamo centralizzato sulla base dell'action il caricamento dei nostri articoli carino no? e poi con la select ce l'abbiamo da qualunque parte che ci serva ad esempio se vi ricordate se adesso andiamo a vedere la nostra applicazione adesso andiamo a vedere la nostra applicazione andiamo a vedere ad esempio il network guardate quante volte gli article vengono caricati no? vengono caricati tre volte perché se vi ricordate uno dei caricamenti che venivano effettuati era ad esempio per popolare i tag qui sotto e quindi come posso fare ad esempio qui nell'home page component dove c'erano gli articoli no? poi c'era il computed ma c'era anche peraltro qui c'è lo user service e poi c'era l'activated route con il data che andava a caricare con l'articolo resolver quindi la prima cosa che andiamo a fare è andiamo dove è? dove è? dove è? più routes poi qui avevamo l'home page e avevamo il resolver con l'articolo resolver questo lo togliamo dopodiché andiamo nell'home page questo non ci serve più lo andiamo a togliere guardate come si semplifica il codice a questo punto qui andiamo questo activated route non ci serve più qui andiamo a fare l'iniezione del nostro store store dopodiché gli article qui ci arriveranno dalla select quindi to signal perché non vogliamo andare a cambiare la logica che abbiamo fatto sull'html di che cosa? di vis.store.select di select articles e quindi questa è la prima modifica andiamo a vedere intanto abbiamo ridotto le chiamate e i tag ci sono e abbiamo tolto via l'articolo service come vedete anche il compute continua a funzionare dopodiché vediamo qui questo user service che serviva e andiamo a vedere